Ci sono voluti 120 minuti con annessi supplementari e poi la classica roulette dei calci di rigore, ma al gol dell'ex interista Achimi tutto il Marocco è scoppiato in festa per l'approdo ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Anche a Caltanissetta è scoppiata incontenibile la festa dopo il rigore decisivo che ha battuto la Spagna, con tutta la comunità marocchina che si è riversata in piazza Garibaldi e per le vie del centro, con bandiere, sciarpe e magliettine al grido di Forza Marocco. Sono infatti tanti i marocchini presenti in città che hanno festeggiato l'impresa della squadra nordafricana, che adesso se la vedranno con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Vincerà il mondiale di sicuro, il mondiale per il Marocco! Quest'anno la prendiamo!